Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Con questo video inizieremo a raccolere tutte le spade dritte di Elden Ring. Le spade sono in tutto 19. La prima spada, la spada corta, possiamo averla selezionando l'astrologo all'inizio del gioco o andandola a comprare dal mercante a sipolcride. La spada lunga possiamo averla se selezioniamo il cavaliere errante all'inizio del gioco o andandola a comprare dal mercante presso la tavola rotonda. La spada lama larga possiamo averla selezionando il confessore all'inizio del gioco o andandola a comprare dal mercante molto vicino alla zona di grazia all'inizio del gioco. Grazie per la visione!